Ciao videomakers, io mi chiamo Francesco e sono di Torino. Ho 39 anni e mi interesso di cinema, di film making da ormai più di dieci anni. Io prediligo le riprese controllate, le riprese dove è prevista una sceneggiatura, dove è previsto uno storyboard, cortometraggi, lungometraggi, comunque la ripresa classica cinematografica. Ho fatto video matrimoniali sia come one man band sia in collaborazione con altri videomaker. Inoltre ho collaborato, collaboro e collaborerò con la Nine Hot Film di William Fanelli e Diego Veneziano, che saluto e ringrazio, alla realizzazione di riprese di concerti di musica classica in teatro e all'aperto. Certo che voglio diventare professionista, assolutamente. Io ci sto provando con tutto me stesso, sto cercando di acquisire l'esperienza possibile, sto studiando, ho comprato questo corso anche per quello. Ce la metto tutta. Io ho iniziato le riprese con la GH4, sai c'era ancora il Reflex Canon o che cosa e c'era l'avvento delle mirrorless già con la GH3, però GH4 è insumentata col 4K, quindi ci ha portato a cambiare completamente visione. Quindi posto devo quella. Ho acquistato una GH5 che mi sta riprendendo in questo momento e adesso sto passando al brand Zetacam. Avevo già seguito altri corsi relativi al mondo dell'immagine in generale, soprattutto corsi di fotografia. Ho fatto un corso di fotografia parecchi anni fa, quando ho iniziato il mio percorso, con un fotografo professionista che mi ha insegnato le basi della composizione, quindi la regola dei terzi. Molte cose che si trovano anche nel tuo corso e che sono spiegate veramente molto bene, alla portata, con un ottimo linguaggio. Libri che leggo e che ho acquistato, li leggo perché sbaglio sicuramente. Uno è Il linguaggio e tecnica cinematografica di Rodolfo Teta Pepe, un libro veramente che è da considerare la Bibbia per quanto ci riguarda. L'altro è L'occhio regista di Laurent Tiro. Sì, sono già incappato in video di Mauro su YouTube. Io YouTube lo utilizzo praticamente solo per seguire tutorial e videoprove di attrezzature sia di personaggi italiani, sia di persone italiane come Mauro, sia stranieri e quindi mi comparivano i video consigliati. Io ovviamente non ho potuto fare meno di cliccare su un tuo video e di andarla a vedere. E già lì si capiva subito il contenuto che poi hai portato anche nel corso e sono veramente contento di averti incontrato, insomma. Mi ha convinto a comprare il tuo corso, Mauro, mi ha convinto la quantità di contenuti che c'erano tutti insieme condensati, perché cercare tutte le informazioni che tu hai messo nel corso porterebbe veramente via tantissimo tempo. Inoltre, già solo dai 20 minuti iniziali che tu puoi vedere gratuitamente che Mauro ti offre, noti subito la qualità dell'esposizione, la pulizia, l'argomentazione e la correttezza, anche se tu vai a cercare, metti alla prova quello che dice. Ovviamente non credo che debba fare, però ci sono moltissime informazioni sbagliate in giro, fuorvianti. Invece Mauro tocca soltanto quello che serve, nella maniera corretta e soltanto quello che veramente ti deve essere utile per te, per il tuo bagaglio. Quindi io consiglio veramente a tutti di spendere questi soldi, che sono comunque una cifra molto bassa per la quantità di informazioni e per il lavoro che ci sta dietro. Ci ho messo circa 20-25 giorni, quasi un mese ci ho messo, che è stato il tempo di convalescenza del Covid. Io sono stato a casa circa un mese con il Covid, sono stato parecchio male, ma fortunatamente avevo il sollievo, e la pazienza di mia moglie tra l'altro, il sollievo di conseguire il corso nel momento in cui stavo un pochettino meglio, quindi mi sono potuto concentrare su quello. Il corso è stato tutto molto scorrevole, molto lineare, si vede la ricerca dei contenuti, si vede la ricerca del linguaggio senza perdersi in tecnicismi, senza perdersi in divagazioni, prettamente da ego, insomma, per far vedere che si sanno le cose, come parecchi fanno. Anche un novizio trova le informazioni, nonostante ad esempio alcune parti veramente molto profondite tecniche, filtro di Bayern all'inizio, ce ne sono diverse parti che sono comunque pregnanti tecnicismi, però spiegati con le formule giuste, spiegati con il linguaggio giusto, spiegati con la pulizia di linguaggio che serve per trasmettere le informazioni, una cosa che non è da tutti. Ho imparato quello che mi aspettavo, sinceramente, anche perché ho visto prima il contenuto del corso e quindi mi aspettavo questo. Ha superato sicuramente le mie aspettative, ma avendo già avuto a che fare con la maggior parte, se non tutti gli argomenti trattati, mi aspettavo di imparare questo. Quello che mi aspettavo magari un pochettino di più, ma non vuole essere una critica, magari un miglioramento per una versione 2.0, è la gestione del set. Mi aspettavo qualcosa più legato a proprio come si gestisce un set, al ruolo del regista, al ruolo della segretaria di edizione, anche un po' di fotografia che è stata forse la parte più trattata, però un po' dietro le quinte, insomma, un po' come si gestisce il set nella parte non vista, insomma. Non amo le valutazioni numeriche, diciamo, soprattutto in contenuti di questo tipo, però se proprio devo dare un voto, per me è 9,5, non 10, non perché 10 chissà che, però se mi dovessi mettere nei panni di chi inizia, è sicuramente da 10, perché avere, come ti ho già detto prima, tutte queste informazioni, tutte insieme, in un unico colpo, a questo prezzo, è con questa qualità 11, Mauro, 11. Sicuramente ho moltissimi strumenti in più nella mia casetta di attrezzi, pronti a creare nuovi contenuti, questo sicuramente. Ho visioni diverse, ho prospettive diverse da parte tua che mi hanno veramente aiutato moltissimo ad aprirmi altri scenari, quindi veramente non so come ringraziarti perché un contenuto, una quantità di contenuti del genere in Italia a disposizione non ci sono, quindi grazie, grazie, grazie. A tutti, lo consiglio a tutti, a tutti veramente nessuno escluso. Lo consiglio a Novizio, come ti ho già detto, tutte le informazioni pulite a un costo basso, senza cercare in giro, senza doversi sbattere, senza dover perdere tempo. Tutto insieme, lì pronto, spiegato bene, con i video, nella tua piattaforma e sia tranquillo per sempre. Lo consiglio all'amatore, lo consiglio all'amatore che vuole capire un pochettino di più, che magari vuole spendere un pochettino di più, che può spendere un pochettino di più, ma li vuole spendere bene quei soldi e vuole comunque crescere. Ma li consiglio anche al professionista, perché anche un professionista ha bisogno di avere tutte le informazioni insieme, soprattutto dal punto di vista didattico, perché per lui, per ricordarsi tutto, per non dover sfogliare pagine e pagine e anche per doverle insegnare, magari a qualcuno che lavora con lui, doverle spiegare, vatti a vedere la lezionecina che ti ha spiegato Mauro, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro. Professione Videomaker è il videocorso in quasi 20 ore di lezioni, più organico e completo sul mercato italiano. Il corso parte dal funzionamento delle videocamere digitali, offre anche un orientamento nell'acquisto della camera, mostra nel dettaglio come rigare la camera, quindi batterie esterne, monitor, viewfinder, follow focus e poi tutti gli accessori, lo spallaccio, il cavalletto, tutti gli stabilizzatori, l'uso dei droni. Un capitolo spiega tutto sugli obiettivi, focale, diaframma, fissi e zoom, tiraggio, gli anelli adattatori e gli obiettivi vintage che consiglio. Si affronta poi la direzione della fotografia, temperatura del colore, luce morbida e dura, come diffonderla e come rifletterla, l'esposizione, ovvero il triangolo ISO, diaframma, shutter, conoscere tutti i tipi di riflettori a luce artificiale, a tungsteno, a fluorescenza, a LED. L'illuminazione a tre punti. Un capitolo spiega le basi della ripresa audio, tutti i tipi di microfoni, i modelli di boom, il blimp, i registratori esterni e le tecniche per una presa diretta professionale. Ma la vera novità di questo corso è che affronta in profondità la grammatica cinematografica, la regia, dalle definizioni di piani e campi ai suggerimenti per una composizione intrigante. Le riprese statiche e i movimenti di macchina, carrelli, slider, steadicam, gimbal, un intero capitolo sulla continuità, la regola dei 180 gradi, i raccordi corretti e quando infrangere le regole. Ti parlerò dei segreti del montaggio, i software disponibili, quali inquadrature possono essere montate insieme e quali no. L'attacco, lo stacco, le transizioni, l'uso della musica negli audiovisivi, musica in parallelo e in contrapunto creare senso ed emozione con la musica, il missaggio audio. Un capitolo insegna come realizzare un perfetto chroma key. Infine sono trattati color correction e color grading. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista.